Il laboratorio di intelligenza artificiale dello ULMA, ULMA Lab, è uno spin-off d'Ateneo e è una struttura che ha come mission quella di diffondere le competenze e le conoscenze necessarie ad utilizzare l'intelligenza artificiale per attività prevalentemente di marketing, di business, di comunicazione ma anche più in generale per il mondo dell'arte, per il mondo della creatività tanto all'interno dell'Ateneo quanto nel mondo là fuori e quindi nel mondo delle imprese. La nostra sfida appunto è quella di noi aiutare i colleghi dell'università a capire come l'intelligenza artificiale possa servire a fare ricerca, a fare sperimentazione, a fare approfondimenti proprio all'interno delle discipline anche umanistiche di cui appunto l'Ateneo è un leader sotto molti aspetti quanto appunto al mondo delle imprese che devono capire come l'intelligenza artificiale oggi possa essere utile per fare business, per ridurre i costi, per ottimizzare i processi e per aumentare la competitività delle aziende. Grazie per la visione!